aiuto aiuto sparate gli o la non lo scuoliamo ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di night of the dead come al solito io sono amore che non sono da solo perché qui con me c'è e anche e anche allora vi dico subito che ho dovuto riregistrare questa parte qua di puntata perché non ha registrato niente ma va bene vi spiego tutto e vi spiego tutto in pochi secondi allora già vedete qua che ci sono delle piccole modifiche e migliorie e uno direbbe mammon che cosa cavolo è successo allora io e braystar off camera abbiamo preso la base dell'orda e l'abbiamo rasa al suolo la base qua principale e l'abbiamo rasa al suolo tranne tranne delle fondamenta le fondamenta sono rimaste le uniche cose che sono rimaste e da queste abbiamo costruito la nuova base che adesso la vediamo e la base dell'orda che dopo braystar ci spiega questo è quello che è successo come abbiamo arredato la casa allora la casa è vabbè piano sotto come vedete è vuoto vuoto perché perché per rifare tutto abbiamo messo tutto nelle ceste che abbiamo messo qua fuori e adesso stiamo smontando tutto e poi abbiamo messo qua i macchinari che andranno lì sotto lì sotto ora a parte i macchinari che vanno qua sotto sopra invece abbiamo fatto una roba fighissima guardate da qua si sale spengo la luce che è più bello ci sono vedete le scale tutto molto curato qua si entra nel magazzino questo è il magazzino come vedete ci sono i cartelli a terra e tutte le casse le casse sono di vario tipo perché non abbiamo tutti i materiali per renderle come i bauli qua però ce la faremo ad arrivare lì però questa è l'area magazzino qua l'area cucina come vedete guardate già arredata perché volevo farla assieme a voi ma è saltata la registrazione la troverete già arredata ma va bene così sostanzialmente ci sono un baule dove metterle cose crude diciamo così e qua invece ci sono le cose cotte ok anche se ci sono anche qua le robe crude avreste bisogna sistemare le ceste poi ci sono delle piante ci sono dei tavoli e ci sono qua degli scaffali che sono inutili solo lato estetico il buon taurus che è sopra qua lucitaurus questo qua anzi lucitaurus è stato investito del ruolo di cuoco e quindi farà il cuoco in questa serie qua e quindi questa sarà la sua cucina taurus puoi anche migliorarlo qua il fuoco eh io non l'ho ancora migliorato ma puoi anche migliorarlo e dovresti trovare già tutto qua e comunque già ho cucinato qualcosa quindi benissimo sistema un attimo le tue ceste perché una cesta cibi pronti dall'altra cibi crudi non pronti quindi dividitele fatti un cartellino scrivile così non si sbaglia più sopra di qua invece c'è la zona notte dove vedete che qua ci sono i due sacchi a pelo di taurus e spanic mentre qua abbiamo la camera da letto di brestar più amor rouge allora questo è il letto di brestar il comodino di brestar qua c'è il qua il coso per mettere i vestiti attualmente vuoto perché è già buona che abbiamo i vestiti addosso qua abbiamo il tavolo con le due sedie che possiamo utilizzare come potete ben vedere questo è il tavolo dove discuteremo dei piani in realtà mancano altre due sedie ma le metteremo questo il mio letto e questo il mio comodino faremo anche le luci ma per arrivare alle luci dobbiamo sbloccare un po di cose che spero di fare già in questa puntatina essendo che è già tutto arredato bisogna andare avanti e in effetti il tutorial me lo propone adesso andremo avanti tutto attorno alla base c'è questo bel diciamo terrazzo chiamiamolo così che serve e vi faccio notare là in fondo la base orda che ha costruito brestar che a breve ci dirà a breve ma non subito perché subito bisogna portare avanti il tutorial allora andiamo qua tutorial ci dice di usare il banco da lavoro attrezzature meccaniche per fare il connettore cavi il connettore cavi è questo e lo creiamo eccolo poi ci dice di fare dal banco di attrezzature meccaniche il cavo elettrico e lo facciamo vai dopodiché ci dice di fare il generatore eolico attenzione iniziamo a fare le cose elettriche ah sì sì brestar il generatore eolico è elettrico eolico è sto robo qua cioè è la pala eolica giusto per dircelo ah brestar mo iniziamo mo c'è da ridere allora la pala eolica adesso il problema è trovare tutte le cose dovremmo averle tutte spero allora ci serve il motorino credo che va fatto eppure la spina il chiodo deve essere qua da qualche parte è nel ferro è nel ferro che cosa è successo che sento che si spacca tu chi è sta spaccando tutto qua sto mettendo i cartelli ah sta mettendo i cartelli però stai attento a non spaccare tutto taurus che qua in un attimo si spacca tutto bisogna stare attenti che qua la base bisogna ancora ottimizzarla perché sennò qua vince tutto c'ho altre bobine bisogna fare la scala per andare su ma sai che le bobine non bastano nelle nelle ceste presta bobine no tantissime le bobine bisogna iniziare a utilizzarle anche quelle io non c'ho l'armatura e non c'hai non c'ha mai niente non c'è mai niente poi alla fine c'ha tutto vabbè allora si si va bene li puoi utilizzare pure nelle nelle armi praticante nelle trappole ma guarda che bresta fa sempre il poverino che dice che non ha niente poi alla fine c'ha è attento che ti prende in giro tutte le volte mezzone gomma si si va bene bresta bravo bravo questa po di plastica si si bresta si stiamo giù qualcosa perché sennò mancano i pezzi per gli altri e a questo punto mi manca la piastra di ferro c'è della piastra di ferro ma non c'è la cassa con scritto ferro ferro si chiama minerali minerali ah già perché era meglio scrivere ferro ma non c'è solo il ferro c'è anche il rame dentro ma perché tanto non ci servono queste queste casse qua sennò diventa un cipollaio allora bisogna fare sicuramente qua mi serve la spina il cavolo si fa la spina io qua c'ho sempre problemi a trovarle però beh io ve lo dico io dal banco elettrico banco elettrico qual è il banco elettrico sai questo il banco ecco qua spina perfetto fatta poi abbiamo il motorino motorino dal banco elettrico pure motorino però è bloccato lo devo sbloccare il motorino banco da lavoro che il motorino devo sbloccarlo il motorino il motorino non ho progressio dati ricerche vai dimmi sì dai guarda che mentre parlavo con te pensavo altra cosa guarda che ho scritto nella cassa ma intanto ho ricercato il motorino e dov'è la cassa è sei sopra aspetta aspetta adesso arrivo aspetta facciamo il motorino mi serve il lingotto di ferro dai che intanto vengo su ah sì sì ah sì sì andiamo a vedere cosa ha scritto quel birichino di taurus è scritto nella cassa cibo cucinato cibo elettrico ma perché stavo pensando stavo ma perché così inizia avere delle dei problemi vabbè taurus sì no ma ti capisco perché giocare con braystar non è facile non è assolutissimamente facile braystar ti degrada la salute mentale lo so benissimo dovevo scrivere cibo crudo sì sì andiamo avanti a scrivere vaccate allora facciamo sto motorino va boom fatto poi cosa ci manca ci manca la piastra di ferro dove si fa la piastra di ferro non lo so vinta se hai fatto il motorino sempre di qua ma non è vero spinto vai la piastra di ferro dove c'è la dove c'è la no la qua 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 l'ho trovata ho trovata io c'è adesso vi dico una mia personale opinione di questo gioco è ormai sono arrivato a un bel po di ore posso dirla secondo me tutti sti banchi qua sono inutili ne potevano fare tre di tutti questi ma dire tanto proprio tre secondo me più ne metti peggio è ecco braystar adesso io ho un quesito per te braystar io adesso ho la pala che vorrei mettere sopra al tetto giusto abbiamo deciso che probabilmente la mettiamo sopra il tetto o no o te cosa dici si sopra qua in mezzo qua ok quindi mi fai delle scale che io non c'ho roba per fare le scale le vado a prendere dai vai a prendere fai una scala provvisoria vai braystar vai forza vai braystar forza ho messo qua va bene va bene va bene ok allora l'idea è quella di metterlo qua braystar cosa dici lo metto tutto in un angolo lo metto centrale se riesci a metterlo in un angolo e meglio in un angolo tutto in un angolo questa fa casino né quindi la metto appena appena faccio ok la mettiamo qua dai nell'angolo guarda guardala qua no guarda ti piace piace o non ti piace l'hai messa al contrario la puoi girare cioè dal giro non si capisce dov'è la spina vabbè la metto girata così eh guarda no va bene così va bene allora adesso qua c'è la spina mi dice braystar andiamo avanti però nel tutorial perché il tutorial ci dice di fare la batteria dice di fare la batteria dove si fa la batteria si fa sempre da qua la batteria e qua nel banco elettrico nel banco elettrico si fa la batteria ok e io pensavo nell'inventario invece nel banco elettrico andiamo nel banco elettrico banco elettrico è questo la batteria è questa e si fa con l'ingotto di rame che sopra continua andare su e giù ma è normale ma per fare la batteria devi fare una spina due batterie come per fare la batteria servono due batterie cos'è il gioco per fare la batteria ci vogliono due batterie la batteria elettrica devi fare quella che si ricarica quanta batterie adesso vedo cosa devo fare braystar non ti preoccupare adesso guarda lui mi dice di fare la batteria lui mi dice di fare solo la batteria adesso non la batteria elettrica e allora fai solo la batteria e l'ho fatta adesso mi dice di fare un'altra batteria però mi dice appunti di sopravvivere secondo me è scritto male qua perché ne servono due lui ah ma lui intende sì no lui intende ti maledetti hanno chiamato la batteria quella che si ricarica batteria che si chiama guarda caso batteria come quell'altra batteria quello che diceva maledetti cioè questi qua braystar secondo me gli è suggerito testa e cose io sono sicuro braystar te gliele te gliele detto braystar va bene braystar ho tutto tutto ho già fatto tutto due batterie e una spina tutto tutto già fatto tutto tutto c'è piastre di ferro tutto tutto c'è tutto dove vuoi che la metto sta batteria dimmi te dai braystar forza io la metterei qui a fianco no qui a fianco al robino che gira al drippino lì di fianco c'hai un verso per metterlo eh sì da una parte c'è le spine che entrano dall'altra c'è le spine che esce no vediamo un attimo io dalla figura non vedo nessuna spina che entra spina che esce lo dico a proposito lo vuoi di fianco proprio la mettilo non qua ma qui in mezzo io volevo metterlo proprio in mezzo a qua dici perché certi punti non te lo fa mettere qua 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 vediamo come inizia a metterlo così è visto che l'avessi al contrario ah perché le spine sono di qua queste sono le spine a me sembra un indicatore mi sembra queste qui sono le spine come sono le spine fammi vedere d'ingresso ah queste sono le spine d'ingresso adesso ho capito oh vedi già giusto sì che è al contrario ah beh no va bene dai lascialo così ma che cavolo ma dov'è il dentro ma ma ci sono due spine qua poi tra l'altro ma non è che una entra e poi riescono queste entrano da qua tu adesso cosa devi fare eh cosa devo fare dovrò collegarlo no ma mi dice di fare il respingitore in realtà anzi migliora il respingitore è una delle trappole lì credo vabbè comunque parte il tutorial va bene io ce l'ho un cavo sì posso usarlo il cavo sì ma ce l'hai l'attrezzo no non ce l'ho che attrezzo va fatto da fare attrezzo per il cavo eh dove si fa l'attrezzo per il cavo adesso capiamo anche come gira oddio sono caduto anche brinstar dai si fa l'attrezzo qua qua dove sono qua dove sono io sì ok vai ci sono il primo primo e la spada laser a due mano connettore cavi serve la spina ok sono subito spina e connettore cavi connettore cavi serve connettore cavi sembra una spina ma sei sicuro che questo sì perché è una spina la vedi ti fa collegare i cavi adesso vai sopra e collega il verde col blu ah io pensavo il verde col verde no che che cavolo di senso però scusa allora aspetta aspetta un attimo quindi mi stai dicendo che tutti questi blu tutti questi blu qua sì sono ingressi mentre l'uscita è solo uno sì sti cavoli ma scusa è quindi vuol dire che tutto lo attacchiamo a lì all'uscita a una sola uscita allora dopo tu esci esci con un cavo e poi fai un'altra cosa per allora allora non lo metto qua allora chiaro chiaro tutto non lo metto qua dopo come la chiamiamo una tripla e non ho capito nomi chiarissimo brestar adesso io ti dico a questo punto conviene metterlo qua centrale magari così che da verso l'uscita della base così tipo così qua tipo si puoi mettere i pannelli solari da qua esci prova del genere poi al massimo smonti i pannelli solari poi devi fare il giro li metti dall'altra parte sì ma non puoi mettere più di una batteria sì sì allora qua io attacco da qua giusto attacco sul blu infatti esce esce il cavo blu esce boom eccolo qua ecco allora in teoria adesso si dovrebbe iniziare a caricare o sbaglio sì dagli un attimo di tempo vedi la luce verde sotto ok perfetto ora che altra roba serve per arrivare giù l'elettricità facciamo tutto il giro giusto per capire allora dipende cosa vuoi fare se vuoi iniziare a fare una lampada no io vorrei portare giù una roba elettrica cosa devo portare giù fai un interruttore un interruttore normale questo elettricità interruttore on off questo qua il primo interruttore interruttore che serve un'altra cosa che si chiama interruttore ma va bene va bene ok va bene cioè questo gioco qua guarda forse mancano le piastre di ferro però dovrebbe esserci quasi fantastico vediamo un po allora devo fare un interruttore interruttore sarà qua che sarà interruttore dove c'è ma è il cos'elettrico devo scoprire devo scoprirlo devo scoprirlo abilità che cavolo è l'interruttore questo eccolo qua ricerca fatto via o la andiamo a fare l'interruttore dove è l'interruttore eccolo qua crea e uno l'abbiamo fatto poi basta tu lo posso già fare braystar posso già fare lo posso già fare sì prendere il nastro le cose che servono ce l'ho già tutto posso già fare l'interruttore sì però mettilo perché io adesso non so la distanza che si può mettere ma scusa passa anche attraverso il muro domani ecco allora la mia idea iniziale braystar era quella di metterlo tipo qua uno cioè da questo poi può sentire altri cavi immagino no uno solo ok allora aspetta no aspetta che ti entro nell'orecchia se no così lo metto qua qua è tipo il come si dice il pannellino no c'è tipo un pannellino qua adesso io torno sopra e poi scendi attacca sul verde sopra sì 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 non è chiaro attacco sul verde aspetta che mi sto schiantando sì 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 corso di elettricisti by braystar vai vai braystar non ti preoccupare adesso facciamo tutto eccolo qua allora prendiamo questo vediamo c'è una tacchetta intanto oh che bello lo attacco qua scendo ah sì sì è un bel po di metri e tiene comunque però passa anche attraverso il muro e lo metti sul blu mamma mia i cavi si vedono no no ok si vedono solo sei sull'attrezzo perfetto eccolo qua l'altro si può anche migliorare sì sì ok che consuma di meno forse boh va bene comunque questo qua possiamo attivarlo o disattivarlo così è disattivato così è attivato però disattiviamo però non c'è niente possiamo vuoi provare attaccare una luce magari adesso tu puoi fare anche una luce dalla luce può andare un'altra luce dalla luce può andare un'altra luce 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 ok volendo volendo o se no bisognerebbe fare un altro interruttore per portarlo da un'altra parte da lì oppure devi fare il divisore di potenza batteria aspetta che vedo dov'è aspetta che vedo dov'è dov'è il divisore di potenza qua divisore di potenza questo qua può distribuire potenza è bravo dove tu è una tripla diciamo dove fai entrare il cavo e poi lo puoi dividere su tutti gli interruttori che sono due quattro sei otto dieci interruttori ah ok allora conviene conviene fare un distributore di potenza per sotto lì e poi attaccare tutto e uno per il piano ancora sotto e uno per il fuori in teoria e attaccare anche il fuori con le luci quindi questo qua diventa il principale e poi il divisore di potenza ci facciamo arrivare un altro di qua un altro divisore di potenza così li puoi escludere comunque serve anche un'altra altra palla no 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 chiaro chiaro quello è chiaro quello è chiaro era giusto per far vedere come funziona quale impianto elettrico le prolunghe per il filo eh ho visto 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 c'è un po di roba poi ci sono anche le prolunghe un po di roba l'importante che qua sta iniziando a caricare va bene allora braystar prima di finire la puntata andiamo a vedere però la tua base dell'orda così ci racconti velocemente come funziona e anche in questo caso così abbiamo finito abbiamo fatto vedere tutte le migliorie che abbiamo fatto off camera e tengo a precisare una cosa mentre te andiamo la la precisazione è questa per per rendere giocabile questo gioco abbiamo fatto una cosina cioè bloccare l'orda tutti i giorni questo perché perché se c'è l'orda tutti i giorni diventa ingiocabile sto gioco perché devi star lì a picchiare gli zombie ti arriva l'orda ti distruggono mezza base devi ricostruire la base devi tirare su le risorse torna e già subito notte e non riesci mai andare avanti quindi secondo me è eccessivo eccessivo assolutissimamente l'orda tutte le notti io la mia partita l'avevo fatto ogni sette giorni come se vende come se vendeste dai secondo me meglio con tre va bene esatto allora vedremo di settarlo ogni tre giorni ogni tre giorni sicuramente molto meglio abbiamo il tempo per sistemare tipo la base qua vai braystar raccontala vai racconta come funziona cosa ho fatto ho fatto in modo di raccogliere i zombie tutti da una parte perché loro cosa fanno vengono qua iniziano a spaccare vedono che non riescono hanno un ingresso facile e allora salgono le scale praticamente braystar li ha messo come l'amo quei pesci ha messo tipo il mangiare li ha detto sali sopra di qua che è facile vai visto che cosa si trovano i pendoli che riscare scaraventano contro le lame e contro altri pendoli che vanno a finire contro il tritapolli no il girarrosto va bene ok va il tritapolli il girarrosto poi e poi c'è qua il batticarne qua il coso qui sì perché cosa fanno loro cosa fanno mentre stanno per morire vanno a finire sul tritacarne che li rilancia contro andando dietro il girarrosto non possono più scappare da qua rimangono bloccati il girarrosto continua dall'altra parte è speculare sostanzialmente l'unica cosa che cambiano le trappole cambiano le trappole le ha cambiate per un motivo perché braystar hai cambiato le trappole allora le ho cambiate soprattutto per vedere un po tutte le trappole come funzionano perché se no i pendoli sempre perché il pendolo secondo me è quello più utile tra l'altro si può anche migliorare adesso adesso possiamo migliorarlo col motorino le altre cose le altre cose però serve serve mettere se lo miglioriamo serve mettere l'elettricità perché vedo che ha un consumo di potenza contrariamente a questo gli altri non consumano però vabbè poi qua c'è cos'è questo coso qua per i star trovo qua sono degli spuntoni che escono lo spuntoni spuntoni che escono sì sì sono spuntoni così li rallentano vengono rallentati e poi vabbè questo va spostato perché era una prova dell'inizio ok e poi c'è qua un'altra blade e doppia blade anche qua e qua una doppia blade per un macellatore se arrivano anche perché qua puoi metterne altri poi e adesso poi cosa ho fatto ho fatto l'ingresso della base l'ho fatto qua dove c'è la macchina qua dove c'è la macchina che loro in teoria non possono salire abbiamo già visto però vedremo ma ho visto che salgono comunque salgono va bene comunque guardate qua qua c'è tutto sto pezzo qua la vediamo guardate che bristar riesce a saltare bristar riesce a saltare ma serve per riparare e questo coso qua l'ha messo bristar per evitare di cadere poi lo metterà un po da tutte le parti secondo me bristar conviene qua dove ci sono bristar riesce a saltare aveva detto va bene invece t'ho ripreso bristar comunque guardate qua qua bristar dove ci sono gli spuntoni che salgono dal pendolo magari qua e qua conviene mettere il ponte così non ci facciamo male cioè lasciare la parte solo qua così allora noi lì non ci andiamo teoria no però se devi ricaricarlo ma che cattivo ha ammazzato l'aquila bristar va bene comunque avete capito il nesso è questo quello della base il nesso vero è questo abbiamo rifatto la base abbiamo rifatto la base dell'orda quindi amici per questa puntata è tutto mi raccomando supportate questa sera con un bel mi piace commento una condivisione iscrivetevi al canale siete già iscritti e attivate la campanella pagina instagram pagina facebook gruppo telegram tutti i link in descrizione compreso anche la playlist di questa fantastica serie bristar devi aggiungere qualcosa per questa puntata no volevo dire ai nostri amici che ci seguono se vogliono fare dei commenti dire aiutarci ci vogliono dare delle ricette di cucina magari anche dei consigli volete mettere ricette cucina facili veloci per bristar nei commenti taurus invece tu vuoi dire qualcosa qualsiasi cosa eh volevo innanzitutto salutare eh mia figlia e mia moglie che sono a casa oh che bravo e nello stesso tempo volevo volevo ringraziare magari tutte le persone che ci seguono e che nello stesso tempo commentano e mandano avanti questa questa serie bravissimo bravissimo taurus bravissimo poi invece te bonus panic vuoi dire qualcosa vuoi anche mandare a quel paese qualcuno è tutto no in questo caso no non ho nulla da dire ah ok va bene allora amici ci vediamo al prossimo fottuto video quindi da amore o già da resta poi anche da panic non è spani no ma anche da aurus ci vediamo al prossimo fottuto video ciao a tutti ciao ciao ciao